ciao amici san valentino non è l'unico momento in cui possiamo abbinare il cibo alla vita di coppia fragole a letto e anche a tavola oggi vediamo 5 cibi che aumentano eros performance e combattono il calo del desiderio e alla fine del video vi svelo come usare questi 5 cibi nel modo migliore per ottenere tutti i loro benefici se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video sul calo del desiderio dopo vi consiglio di andare a guardare questo mio video 1 cioccolato che il cioccolato sia amico della salute sessuale non è solo una fantasia da film romantico il cioccolato fondente almeno all'80 per cento e senza zucchero bianco contiene flavonoidi potenti antiossidanti naturali contiene anche caffeina che stimola il sistema nervoso 2 fragole le fragole contengono antiossidanti che favoriscono la circolazione anche nei punti critici un dessert di fragole è proprio quello che ci vuole per chiudere una cenetta romantica 3 miele il miele ricco di vitamina b e minerali come il boro insieme favoriscono la produzione di estrogeni nella donna e di liquido seminale testosterone nell'uomo per gli amici maschietti ho fatto una playlist apposta andatela a vedere prima di rivelarvi gli ultimi due cibi iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e se apprezzate il mio lavoro aiutatemi con un piccolo contributo mensile abbonandovi al canale info in descrizione 4 banana spiritosa no lo dice la scienza la banana è un frutto ricco di potassio magnesio vitamina b e anche proteine è un super cibo completo nutriente che aumenta l'energia e mantiene attivi a lungo lo afferma uno studio scientifico americano sui cibi che migliorano la sessualità nella donna il link in descrizione 5 peperoncino questa spezia dal sapore piccante migliora la circolazione e stimola il sistema nervoso che dire piccante di nome e di fatto ma come faccio a usare tutti questi cibi facile seguite i miei video e le mie ricette oppure usate quelle dei miei libri e the book trovate tutto in descrizione e sul mio sito il trucco è usarne un po nei vostri piatti oppure usarli come snack nel caso della frutta a parte le cenette romantiche usate questi cibi un po tutti i giorni per mantenervi in salute mangia sano e vivi meglio